Gossipitavip, se lo sussurra, lo svegliamo. Il misterioso caso di Roberta Ragusa continua ad attirare l'attenzione mediatica, appassionando i telespettatori con interrogativi su dove sia il suo corpo e in che modo sia stata uccisa. Si tratta di un omicidio con l'oglio indicato come l'unico colpevole in un processo basato su indizi. La madre premurosa e amorevole è scomparsa nella fredda notte del 12 a 13 gennaio 2012 a San Giuliano Terme, Pisa. I figli di Logli, Daniele e Alessia Ragusa, sostengono l'innocenza del padre. Daniele, il primo genito, ribadisce il suo sostegno sperando in una revisione del processo. In una lettera riportata da un settimanale giallo, Daniele esprime la sua convinzione sulla vicenda, chiedendo all'avvocato del padre di considerare le sue dichiarazioni. La lettera rivela che Daniele era stato sentito in passato riguardo a un'ispezione corporale su Antonio Logli, avvenuta il 14 gennaio 2012, poche ore dopo la scomparsa di Roberta Ragusa. Daniele conclude la lettera sperando che le sue parole possano essere di valido aiuto, sottolineando la stranezza della vicenda che lo ha segnato profondamente quando aveva solo 15 anni e era legato alla madre e al padre.